Iiii! Signori, un altro gioco spettacolare e carico di roba, con tonnellate di nemici, tonnellate di proiettili su schermo e una tonnellata di roba da schivare, però eventualmente al di fuori delle mie possibilità. E lo vado a consigliare ai cosiddetti Daxuliani, ovvero quella tipologia di videogiocatori un po' masochisti, anzi tremendamente masochisti, che vi aggrada eventualmente frustrarsi e straziarsi le carni con difficoltà estreme, tipo Daxuliani o un intrallazzo sul fuckbook. Eventualmente l'abbiamo fatto, dici, eh, se non ti strazi le carni, godi solo a metà. Ecco, eventualmente per te, per te, per te, per me, il videogame è divertimento e se mi vado a straziare le carni con difficoltà immensa e con checkpoint ogni triliarde di chilometri, e che quindi muori e devi rifarti i triliardi di chilometri, poi bella l'ambientazione, per carità non è tutto schifo, però poi i triliardi di chilometri con i triliardi di nemici che ti devi rifar fuori o che devi rischivare, insomma, un delirio che crea una frustrazione troppo esagerata che devasta completamente il divertimento e se non c'è divertimento, per me, il gioco non vale una minchia, ok? Qua invece abbiamo il classico dungeon crawler, però appunto tremendamente ostico, che quindi aggrada positivo di persone, morite un sacco di volte, ricominciate, ci sono una serie di personaggi, selezionabili all'inizio, generato casualmente, quindi adesso vedrete questa roba, ma può darsi che ci sia qualcosa di diverso, forse i boss anche quelli, forse no, non ho provato a giocarlo più volte, sicuramente il boss ultra mega finale rimane sempre quello, a proposito dei boss, hanno veramente uno sproposito di vita, in realtà è di un ostico generico, e quindi, ecco, questo qua è uno di quelli forse più facili, forse più facili, che è suddiviso in quattro, ma guardate quanta cazzo di roba che ti spara addosso, cioè, umanamente, parliamo proprio di umani, e poi le persone mi dicono, eh, io da Zul ci ho giocato benissimo, ma sono umano come te, e io ti ripeto, sei umano sto cazzo, sto cazzo oggettivo, anche perché non è possibile, umanamente, riuscire a fare delle cose del genere, riuscire a avere dei riflessi così elevati, così elevati, da schivare una tollenlata di proiettili al secondo, che ti arrivano addosso, umanamente non è possibile, magari, non significa giocare male, significa che sei addestrato a questo tipo di attività, da anni sei riuscito a farlo, io non ci riesco, quindi questo è un gioco che ho provato, ho ottenuto da parte, e poi l'ho disinstallato, perché non fa parte delle mie competenze, ma sicuramente ci sono i cosiddetti darsuliani, ci sono i masochisti, voi lo siete e tantissimo, e vi accrederà tantissimo questa roba qua. Adesso, ancora una stisa, perché arriviamo, forse, al boss finale, che è una delle perline, ecco qua, per esempio, c'è nemici su schermo, c'è sta roba che ti gira intorno, e c'è un martello che continua a smenarti da far schifo, ci sono le bombe kamikaze, eccolo qua, il mega dragone super devastante, eccolo qua, che inizia, che sembra una robettina così, tra l'altro ha una tonnellata di vita, e poi inizia a fare questa roba qua, e dici, cazzo, e vabbè che devi beccare punti giusti, ma intanto cadi nel vuoto, e intanto lui ti espone il cuoricino, si cimisce in maniera bonaria, e poi esplode. Comunque sì, per voi, tutto per voi, godetevelo, io non posso che stracciarmi le carni, no, direi di no, non fa per me, saluti. Ehm...